La domenica è dedicata al montaggio del carro di Peppe Nappa. Nelle immagini vi stiamo mostrando tutti i vari pezzi di questo carro realizzato ormai dal gruppo che da alcuni anni collabora alla realizzazione del carro allegorico e viene preferito anche per l'affidamento di questo incarico. Con Domenico Venezia scopriamo quali sono le caratteristiche del Peppe Nappa di quest'anno. Buongiorno, quest'anno il Peppe Nappa è come Antonio Benzaga e Madallato sul tema siciliano. Abbiamo visto un po' di temi, le cose più concentrate della Sicilia come le esponenti in carrette siciliane, il tipo dolce siciliano, tutte queste cose. E poi chiaramente la solita distribuzione della salsiccia, del vino, come vi siete organizzati e quali sono i quantitativi che avete preparato quest'anno? Nel momento effettivo, perché non sappiamo giustamente se piove o no, abbiamo già confermato 650 kg di salsiccia. Tutti i giorni della festa? Tutti i giorni. 300 kg di caramelle e 800 kg di carbone. Perché quello è il carbone, quello che se ne va tanto. La gente è sempre legata al Peppe Nappa, perché a Sciacca viene tanta gente per guardare i carri, per ammirarli naturalmente, però tutti si fermano accanto al Peppe Nappa. Non è che tu gli dai una grandissima quantità, la gente passa anche quel pezzetto di salsiccia. Il piacere è che ti prendi il Peppe Nappa, anche i bambini, voglio un pezzettino, perché non è che dai una grandissima quantità, dai un pezzetto. La gente ci tiene, passa, se lo prende come simbola a mente. Voi cosa ne pensate, voi che siete ormai veterani del carnevale, di queste novità di quest'anno, a cominciare da questo ticket di cui si parla tanto in questi giorni? Per me il ticket se va andiamo a costruire, a ingrandire il carnevale sta bene. Io da parte mia, il mio pensiero è sbagliato solo e dicono niente con nessuno, che un semplice familiare che ha un bambino da un balletto di un gruppo che deve pagare, ha un omaggio solo a un genitore. Per me è sbagliato, almeno i genitori si devono dare entrambi, perché che fai? Una sera fai entrare papà, l'altra sera fai entrare la mamma. Io dico il ticket va bene, se prendi a dire la festa diamo, perché poi alla fine 5 euro non è che stai pagando chissà che cosa. Per me sbagliato è che mette un bambino nei gruppi, ripeto, dà un contributo alla manifestazione. Non puoi fare che dai solo un genitore, dobbiamo dare tutti e due. Questo è il mio pensiero. Antonio, dal punto di vista artistico come sarà questo pepernato? È abbastanza decorato e comunque tocca a tutti i vari punti della Sicilia. Ecco, vari aspetti, diciamo, quali sono le componenti del carro? Allora, abbiamo alcuni monumenti tipici di Sciacca, come il Castello Luna, lo Steripinto, il rosone gotico della Chiesa del Carmine. Poi ci saranno altri elementi come i carretti siciliani, quindi due sponte di carretto, la tipica pasticceria siciliana, quindi la cassata e il cannolo siciliano e poi ci saranno alcuni oggetti di ceramica come i piatti di ceramica di Sciacca e un bummolo che è un vaso gotipico siciliano e poi ci sarà dietro nella parte del retro del busto la Sicilia con la trinacria e in mano il pepernappa e il tamburello, che è un altro strumento musicale tipico siciliano che veniva usato anticamente anche nel Carnevale. Grazie, un'ultima domanda. Da un punto di vista artistico, sulla base delle notizie in tuo possesso, diciamo, qual è la qualità dei carri di questa edizione del Carnevale? Eh, questo anno ci sarà una buona qualità. Cioè, alla fine sappiamo le associazioni che partecipano quali sono e i prodotti che hanno presentato gli altri anni, quindi non vedo perché dovrebbe abbassare il livello. Sarà sempre un bel Carnevale. Grazie.